Per questo colosso ci ho messo un po' a trovarlo, ho girato, ho vagato un po', vediamo se è il punto giusto, penso di sì, forse, forse sì eh, sì 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 sì, ok, ok, questo posto qua, alla fine era semplice raggiungerlo, ma mi sono andato a insinuare in delle gole, bene, allora, devo scendere, senza ammazzarmi, possibilmente, ecco, ok, vediamo se devo scendere, giù 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 giù, ok, devo andare sì, là, mi pare, anche no, nell'acqua, va bene, se ha un serpentone marino, allora, mi pare di ricordare che bisogna andare qua, bisogna tirarlo fuori, ecco, però no, devo cadere, mi ricordo se basta passargli sopra, ma mi pare di no, si arrampica, mi pare di no, oddio, no, io mi mettevo qua, se non sbaglio, però, andiamo, non c'è stata nessuna variazione, eh, perché non lo stiamo colpendo, eh, effettivamente, non penetra neanche di poco, ecco, ecco, e prova a passargli sopra, vediamo, vediamo, eh, pensa, magari si, ca, ok, 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 da fastidio, infatti, infatti, mi ricordavo male, già fatto, grazie, aspetta, però, ok, però, io, pare che, ah, eh, no, eh, ho sbagliato, no, però così ci tira sotto, no, forse era la cosa giusta, eh, che lui va, va, viene sopra, il pelo è lì, aspetta, dai, ti do fastidio, vero, eh, eh, questo ti do fastidio, ok, aspetta, ci passo, ok, vai, no, 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 non l'ho preso, eh, ma forse devo, aspetta, forse devo fare così, eh, inutile che vado sopra, eh, sulla piattaforma a sto punto, dai, ti do fastidio, vero? no, aspetta, ok, 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 si sta incazzando, sta venendo su, aiuto, aspetta, lo so, l'ho visto, eh, però non devo arrivare al punto giusto, eh, c'è il momento giusto, ah, abbiamo capito, dai, vieni su, ma, aspetta, sposto di lato, guarda, li metto qua, ok, eh, però, non sono mai nel punto giusto, no, maledizione, sa che l'unica è andare sulla piattaforma, guarda, perché si mette bene, eh, adesso devo riattirarlo, capito, ecco, allora, proviamo, proviamo, se io velocemente, vado qua, eh, no, vedi però, che prima, eh, eh, cavolo, ah, me lo ricordavo così, complicato, eh, di beccare il momento giusto, dai, mi vedi? Hello? ok, ok, forse, devo provare a stare, comunque, ecco, perché mi faccio prendere dalla paura, questi spuntoni elettrificati, ma alla fine, se mi metto bene, guarda, guarda, ecco, visto? ok, ok, mi ha, mi ha preso, però, devo andare su, se no, non riesco a muovermi, riesco neanche a respirare, ok, allora, adesso, devo andargli davanti, se non ricordo male, ok, oh, è dura un po', cioè è dura un po', ma non per sempre sta cosa, eh, poi dobbiamo rifare il giochetto di prima, una, ah, già, se tocca l'acqua, parte l'elettricità, quindi devo stare attento, attenzione, ok, questo l'ho spento, ho spento anche questo al perno, ok, aia, eccolo lì, il punto debole, forse lui ne ha uno solo, ne sono sicuro, ma, vado, vieni su, ok, ah, ma gli ho tolto un sacco, ah, vado, dai, stai fermo un attimo, ok, andiamo, e forse adesso, adesso la musica è finita, mi sa che, sempre incazzato, però sta giù, non torna più su, sì, dobbiamo mollare, su, 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 mamma mia, oh, il pelo, un attimo di tregua, ok, ah, ma adesso gli ho spenti tutte e tre, quindi non c'è proprio pericolo ora, Aspetta Aspetta, avviciniamoci Sì, è un po' stupidotto Nel senso che se starebbe sempre sott'acqua Sarebbe invincibile Però lui si incazza Da fastidio Che qualcuno li nuoti sopra Dai, vieni qua Tanto moe l'elettricità Non c'erai più Vediamo se esco là Vai Eh, vieni su però Oddio, sono andato troppo avanti Sono andato troppo avanti Eh, non si vede bene Ma ci fa anche un po' di luce Con l'elettricità Aspetta Aspetta In effetti è quasi invisibile Sono qua Ok Aspetta Aspetta Mi punta Se sto fermo Andiamo Eh, non vedo bene Ok 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 Ecco Che mi arriva la coda Che mi arriva la coda Ecco Aspetta Devo star fermo Ok Lui adesso va sopra Che sede che li creo Prurito Non so Ok Adesso possiamo andare Un po' spediti Ok Andiamo 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 Ok 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 Eccoci Vedi in giro? Ma guarda Guarda che va giù Stardo Guarda Ma che è? Aspetta Eh no eh Non mollo Oh Madonna Aspetta devo mettermi meglio Eh ok così sono messo bene Però devi stare su Preso fatto in tempo Dai ancora un colpettino Preso Ok Eh insomma Ho fatto un attimo Sudare un po' di più No me lo ricordavo Più o meno Però non ero sicuro La piattaforma lì Mi ricordavo che l'avevo fatto Dalla piattaforma Mi pare Però vabbè Ma sta bene Anche così Niente Aspettiamo Di venire presi Dalle Cose nere Ci mettono un po' eh Vengo io da voi Oh Ah eccole Ci ha messo Oh è un po' profondo Si vede E' un po' di più E' un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, forse ho capito chi è. Eh, questo qua è già un po' più combattivo rispetto agli altri, credo. Adesso vediamo se appena lo vedo. Allora, devo andare a di qua, proprio a quella direzione lì, o no? No, di qua. Ok. Gira, 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 ok. Va bene, dai, ci vediamo, sì, direttamente a destinazione. Non so se ci siamo, eh, mi sono infilato in sto posto, bel posto, bellissimo posto, un po'. Ecco la cascata. Ma vediamo se... Non ne sono, sì, non mi ricordo. Forse sì. Aspetta. Andiamo un attimo. So che era, sì, tipo sottoterno, del genere. Vabbè, notiamo, andiamo là. Però allora, i primi colossi, in generale, me li sono sempre ricordati molto bene. E gli ultimi due. Me li ricordo molto bene. Ma gli altri, anche dove si trovano, diciamo. Ma gli altri, quelli un po' a metà, non... Sempre un po', insomma, dati via di mente. Vediamo se la qua. Immagino comunque lo scopriamo. Vediamo, però se rivedo il luogo... Questo è andato a finire, aspetta. Ma possiamo arrampicarci? No. Scusa. Siamo sicuri che la direzione è giusta. A parte che no, dalla hapa non si capisce, ovviamente. Ah, forse qua. Ci si può arrampicare, eh, infatti. Fa venire qualche dubbio. Oh, stai su. Perder la presa. Ok. Sì, no, sì, sì, ok. Ci siamo, sì. Mi ricordo quelle... Diciamo inferiate lì. Si possono chiamare così. Sbarri qua. Sì, sì, è qua sul fondo. Esatto. E lui... Il punto debole... Ce l'ha sulla pancia, se non sbaglio. Ma... Per far sì che si capovolga, dobbiamo... Attirarlo in alto. Aspetta. E usciamo da qua. No. Aspetta. C'era un muro spaccato qui da qualche parte. Forse... Ah, ecco qua. Dobbiamo attirarlo... Su. Teniamo la sua attenzione. Però lui è pericoloso, perché... Spara proiettili. Non so di che tipo, ma... Aspetta, eh. E' tutto rotto. E' già su, vero? Ok, se è già su... Eccolo lì. Vada, guarda. Ah, non solo proiettili. Sono anche tossici, se non sbaglio. Sono di qua. Ok, ma che si sposta. Più su va, meglio è. Ok. Dobbiamo mirargli le zampe, mo. Eh no, la telecamera. Eh, però non riesco a vederlo bene. Ok, forse qua lo vediamo un po'. Ma è dette, sbarre. Fate qua paura di cadere. Ok. Abbiamo preso una zampa. Eh, mi zio, sono proprio sul bordo. Aiuto. No, la telecamera fa... Dei giri strani, certe volte. Ma è lezione, guarda lì. Non riesco a prendergli, da. Dai, fermo così. Aiuto. Eh, mi zio, no. Questa fama, fa molto male. Questa roba. Devi cadere. Mi pare che bastassero anche tre su quattro. Non ne sono sicuro, ma... Ah, ecco, vedi. Ok. Ok. Ah, no, anche due, anche due. Vai. Eccolo lì. Eh, mo' devo cadere, però. Qualche modo. Vai. Aia. Dai. Il tempo è contro di noi. Boh. Ok. Siamo degli atleti. Eh, eh, mizziga. Si sta agitando, si sta agitando. Eccolo qua. Dai. Ah, ne ha... Ah, ok, ne ha due. Dai, colpiamo quello che possiamo. Una volta. Dove sei? Aiuto. No, ma... Moriamo, moriamo malissimo. Aspetta. Fammi tornare su. Eh, sì, eh, sì. Dobbiamo... È solo che il problema principale qua è appunto che per scendere ci metti tot. Quindi per quello mi sono buttato. No, aspetta. Sì, infatti... Oddio. Aspetta. Lui è già... Il punto più combattivo degli altri. Ma più è pericoloso. Aspetta, questa qua è la vita che è... Quasi a zero. Dove sei? Asseo. Ok. No, ciao. Aspetta. Ok. Lui pensa che siamo là, ovviamente. E dai, gli becco sempre la coda. Oh, cavallacca. No. Dai, fermo un attimo. Dai, fermo. Comunque... Ok. Ok, vediamo. Vai. Eh, però scendo... Però scendo così, per forza. Non muoio. Almeno mi si ricarica un po' la vita. Vai, vai. Ok, ok, ok. Eh, però scendere così forse è meglio, eh. Aiuto. Aiuto, non mi schiacciare. Mi ha ucciso. Porca vacca. Mi ha ucciso. Eh, mizzeca. Oh, il primo game over, dai. Eh, mi ha ucciso ben due volte, eh. Questo qua. Mamma mia. Il problema... Adesso ha preso una bella botta. Guarda, me ne vado, me ne vado perché il problema maggiore è quando lui si rimette in piedi che mi schiaccia e quindi mi ammazza. E comunque, sì, più in alto va e più la caduta è alta e più si fa male, eh. e più sta giù, più sta giù fermo. Quindi, aspetta un attimo. Aiuto. Ok. Se va in alto per i fatti suoi guarda perché prima è andato su proprio di sua spadena volontà cioè l'ho colpito ma è andato parecchio in alto. Aspetta. Madonna. Quella. Guarda, guarda. Vai su, vai su. Guarda, guarda. Guarda che va su. Ecco, ecco. Più su, più su. Bravo. Stai fermo però non riesco a prenderti se no. Preso, preso. Ok. Adesso lì è una bella botta. Ok. Adesso starà giù per un po', mi sa. Vai, vai, vai. Ok. Vai, vai. Dai. Ok, ok. Dai. No, cosa fa? Ok. Un attimo l'incantato. Ok. 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 Ce la faremo? Non credo. No, no, no. Me ne vado, me ne vado. Perché c'ho paura. Morire adesso? Devevi far tutto? No, no. Al prossimo giro lo prendiamo. Allora. Diciamo che con questo devi già avere un po' più di strategia un po'... Dosare i colpi. Allora. Guarda, guarda. Allora. Vai, vai. Vieni su. Vieni su. Ok. Qua direi che è il livello giusto questo qua. Non siamo né troppo in alto né troppo in basso. Perché troppo in basso non credo poi salga, eh. Siamo troppo in basso. Guardalo. Oddio. Ci potrei provare, però. Aspetta. Allora. Smuoviamolo un po'. Ah, vieni qua, eh. Beh. Ah, è lì. Ma si sta girando. No, sta tornando giù. Sta facendo. Ah, sta mettendo in posizione. Vai più su. Ah, sta tornando giù. Cosa fa? Ah, si gira. Se io faccio così lo attiro Mi ho avuto in mente adesso No infatti Ehi Dai torna su come prima Mi avrà visto Forse Guarda Vai vai un po' più su Un po' più su No vedi Lui pensa che siamo lì Andiamo Ma dai ma che va più su Guarda lì forse va anche bene Ok Vai Ok un po' più in alto Vediamo E' anche qua vicino Sembra il tappeto rosso Dai Forse ce la facciamo Con un colpetto Ok Infatti Me lo ricordavo Questo era un po' più combattivo Rispetto agli altri Finora Ci ha dato un po' di filo da torre Ci ha ucciso due volte Anche se voi Non penso che abbiate vista La seconda morte Perfetto Perfetto Mono Mono Perfetto Grazie. Oh Dio, lo chi era? Un amaro risveglio. Ah, era forse quello con i geyser? Adesso vediamo. Così di primo occhieto non mi viene in mente però. Vediamo.